Siamo in una situazione di precarietà peggio degli altri insomma, comunque io ho scritto qualcosa di modo che si capisce bene, ho scritto questo, c'è che il lavoro non ce l'ha e lo vorrebbe e c'è che ogni giorno va a lavorare senza percepire stipendio, io ed altri dipendenti della casa di cura della creda, struttura sanitaria psichiatrica convenzionata di Capezzano, svolgiamo un lavoro che definisco particolarmente attento e curato soprattutto perché si rivolge a persone con problemi psichiatrici e si sentono accuditi e normali i cittadini, certo lavorare è importante e fare quello che ci piace ancora di più, ma dietro deve esserci una compensazione economica però. Bene, da circa un anno i dipendenti della casa di cura, la guieta, non percepiscono i loro stipendi, il motivo? Il nostro datore di lavoro ha contratto dei debiti, cattiva gestione, molto probabilmente, i suoi debiti vengono pagati con i nostri soldi, visto che Equitalia sequestra le rette che la regione regisce puntualmente ogni mese. Ma perché, dico io, da queste rette 370 mila euro non vengono scorporati i nostri stipendi? Le istituzioni cosa fanno per noi e dove sono? Mi rivolgo a tutte le istituzioni. Si disinteressano, non considerando poi che un giorno l'altro, un centinaio di famiglie perderebbero il reddito e con esso il posto di lavoro. Inoltre il datore di lavoro ultimamente non ha rispettato nemmeno un accordo economico fatto all'ispettorato. Con questo dove vogliamo arrivare? Le istituzioni ancora una volta non intervengono, noi siamo in valia della follia e quindi chiedo alle istituzioni di intervenire immediatamente perché 11 mesi senza i stipendi non si può stare, le famiglie, i figli dove vanno? Allora che si muovessero, prima che succeda un miracolo proprio. Va bene? Grazie.